il sistema educativo di istruzione e formazione, l'Invalsi, Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e Dettore Acerra, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto e ringrazio i nostri auditi per essere intervenuti e saluto anche i colleghi, sia quelli presenti che quelli che sono collegati da remoto. Ricordo che dopo l'intervento dei nostri ospiti darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni. Successivamente i nostri auditi potranno rispondere alle domande, quindi eh la parola a Roberto Ricci, presidente dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Prego dottor Ricci, a lei la parola. Mi sente? Grazie, sì. Ok, perfetto, grazie. Mi sentiate anche voi, buonasera a tutti e a tutti, grazie agli onorevoli deputati per questa opportunità. Il punto che relativamente al tema oggetto di audizione come Istituto Nazionale Invalsi riteniamo opportuno mettere in luce sono intanto lo stato delle, diciamo, competenze digitali dei nostri giovani per come esse sono o possono essere misurate e e anche e poi come seconda parte del mio breve intervento quali potrebbero essere dal punto di vista tecnico ovviamente per la parte che ci compete e le azioni che potrebbero essere intraprese e al fine della promozione delle competenze digitali. Nel eh duemila e diciotto quindi piuttosto recentemente mh l'Italia eh ha partecipato ad una ricerca internazionale che va sotto il nome di ICIS se la leggiamo all'italiana. È una ricerca eh estremamente prestigiosa e eh promossa dalla IEA che a livello internazionale è il soggetto più accreditato per la rilevazione basti pensare che il Pisa nasce da una costola quantomeno metodologica delle rilevazioni IEA e il mh questa ricerca vuole misurare le competenze digitali degli eh ragazzi di tredici anni e mezzo quindi per noi la terza secondaria di primo grado e secondo un quadro di riferimento attestato a livello internazionale come riconosciuto da tutti i migliori punti il punto di arrivo diciamo così allo stato delle cose e della della ricerca internazionale e questa ricerca ha un tale prestigio che nel duemila e ventitré l'Unione Europea utilizzerà gli esiti di questa ricerca che sarà appunto conoscerà la nuova edizione appunto nel duemila e ventitré come indicatore comunitario per misurare i livelli di competenza dei nostri eh diciamo dei giovani in questo caso al termine del primo ciclo di istruzione. Purtroppo di questa rilevazione nel duemila e diciotto sono stati molto molto preoccupanti posizionando il gli allievi italiani all'ultimo posto eh dei paesi e oggetto di e osservazione nel duemila e diciotto chiedo scusa non furono tutti i paesi dell'Unione mentre nel duemila e ventitré lo saranno tutti comunque nel duemila e diciotto i maggiori paesi come Germania Spagna Francia erano già parte di questa rilevazione. Ripeto questo è un esito piuttosto preoccupante poiché la ricerca non si limita e anzi direi non prende in esame aspetti meramente operativi quali non so il strataggio di un file o aspetti di questo tipo ma le competenze digitali in un senso profondo cioè le competenze eh che gli studenti devono avere per muoversi e autonomamente consapevolmente nel mondo del web nel mondo tecnologico e che li eh circonda. Ecco quindi io ritengo che ehm di questo dato dobbiamo farne tesoro oltretutto il GRC che è un centro di ricerca sempre dell'Unione Europea eh lancia un grido d'allarme piuttosto preoccupante per l'Italia e se vogliamo però vedere come io credo sia opportuno fare il eh in modo propositivo questo esito che certamente non è incoraggiante è il seguente il quadro di eh di riferimento di questa ricerca eh disponibile sul sito Invalsi e una eh sua ehm traduzione anche se degli aspetti essenziali in italiano è disponibile sul sito dell'Invalsi a mio giudizio e pone la fornisce scusate la possibilità di agire concretamente eh in già a partire dalla appena lo si voglia e ritengo con delle strade operativamente praticabili e eh soprattutto che sono il punto della migliore ricerca internazionale poiché tutti noi sappiamo che ehm l'accordo sull'opportunità di sviluppare competenze digitali credo che eh e possa facilmente eh far raggiungere l'unanimità di tutti coloro che ne discutono ovviamente il il tema diventa più complesso nel momento in cui si vanno a declinare concretamente le azioni che devono essere intraprese per promuovere queste competenze che cosa si debba intendere a livello scolastico e soprattutto come si possono aiutare i docenti le scuole in generale a iniziare o a potenziare questo percorso ecco io credo che la grande potenzialità di quel del quadro di riferimento di questa ricerca sia la sua spendibilità operativa guidata da una solidissima ricerca scientifica e possa essere di grande eh di grande aiuto viceversa e il l'edizione del 2018 ce l'ha detto in modo molto molto chiaro il ehm il come posso dire lo svantaggio dei nostri giovani eh è veramente preoccupante anche perché esso va a mh purtroppo a rafforzare differenze già esistenti nel paese e quindi se di fronte a risultati tutt'altro che incoraggianti di tutti i ragazzi e i delle scuole italiane che hanno partecipato naturalmente purtroppo nelle condizioni di maggiore svantaggio sociale economico geografico culturale mh questo problema è decisamente più accentuato concludo dicendo che il l'esito eh del eh di questa rilevazione che ripeto è presa a riferimento dall'Unione Europea come standard e come parametro di riferimento pone un altro tema sul quale io credo dovremo tutti riflettere e l'invalsi nella sua funzione ovviamente di ente a supporto dello sviluppo del sostegno e del sistema scolastico e di eh diciamo di supporto tecnico al Ministero dell'Istruzione credo che sia un altro è a totale disposizione volevo dire ecco l'altro tema molto importante è che di fronte ad una eh risultati medi piuttosto bassi suscita ancora più preoccupazione il fatto della eh di fatto a quasi totale assenza di allievi eccellenti su questa e su questa dimensione mentre nelle relazioni nazionali e le relazioni in Pisa o con dei problemi noi comunque e riusciamo ad attuare degli allievi che raggiungono dei livelli di intellenza purtroppo su queste competenze quei livelli di competenza sono quasi totalmente disattesi dagli allievi delle scuole italiane quindi non voglio naturalmente per convinzione oltre che professionale e personale e come dire dipingere tutto di eh a tinte e bosche ritengo però che sia necessario operare al più presto soprattutto anche capitalizzando su e non solo mio giudizio e strada suggerita molto valida e praticabile ovviamente poi migliorabile adattabile alla situazione nazionale ma non siamo eh certamente lungo questa direzione grazie dottor Ricci non la sentiamo più lei ci sente? Io mi sento ho terminato la ringrazio per il suo intervento eh do la parola a questo punto al dottore Stefano Versari capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell'istruzione prego dottor Versari Buongiorno buongiorno Presidente Don regole case a tutti i parlamentari cerco di eh fare un punto senza numeri senza dati ma semplicemente una riflessione a volo d'uccello su dove siamo e dove stiamo andando ehm la prima questione è che sono otto punti velocissimi primo punto strumentazione e potremmo dire il digitale non si fa a mani nude da questo punto di vista la crescita delle dotazioni digitali e delle connettività delle istituzioni scolastiche negli ultimi dieci anni è stata eh estremamente significativa in questo momento siamo con l'utilizzo del registro elettronico al novantanove per cento delle istituzioni scolastiche erano dieci per cento in meno eh nel duemiladiciassette diciotto le audio e cablate sono circa il settantotto per cento quelle connesse il novantanquattro per cento e quelle in grado di svolgere ehm dinattica digitale anche per i od sessantotto per cento diciamo che da questo punto di vista le dotazioni ehm delle delle scuole sono cresciute anche in ragione delle dell'epidemia covid in maniera adeguata anzi in maniera eh significativa quello che bisogna rendersi conto è che nella logica dove stiamo andando non è più sufficiente pensare solo al tema dell'hardware ma bisogna sostanzialmente fare coesistere le tre chiavi di volta l'hardware il software quindi le piattaforme i supporti informi come dire il software e quindi le dotazioni informatiche e il setting cioè eh la sistemazione dei locali l'adeguatezza dei locali lo stesso locale come l'aula informatica come computer fissi come dire sostanzialmente è un'attività è una collocazione è un setting superato eh dobbiamo pensare queste tre dinamiche in maniera congiunta il secondo tema è quello della connettività dove per connettività intendiamo la rete e i device cioè la rete e il computer che può essere fisso computer oppure eh come dire un tablet o altri strumenti o anche biode cioè lo smartphone dello studente da questo punto di vista eh fu coniato nel terremoto del del 2012 dieci anni fa in Emilia un termine che vale per tutto il paese connezzo sine qua non senza connettività eh non si realizza eh l'innovazione digitale e non si realizza la didattica digitale integrata direi che il piano nazionale Bull del 2023 piano bianda ultra larga Italia stia consentendo è consultabile online nello sviluppo eh delle delle realizzazioni la possibilità oltre a tutto quello che già era stato fatto dell'idea di una banda larga presente in ogni punto di erogazione eh del servizio è fondamentale perché si possa realizzare una didattica digitale integrata effettiva nel sistema scolastico ehm terzo punto il tema della delle competenze digitali eh che potremmo tradurre in dimestichezza e spirito critico ehm direi che si stia ci pare eh si stia codificando sempre di più ehm la ehm definendo sempre di più il quadro entro cui collocare queste competenze digitali da questo punto di vista è stato definito eh una codifica europea pubblicata della Commissione europea la cui ultima versione è uscita pochi pochi giorni o sono eh digcomp edu eh che si riferisce alle competenze digitali per chi si occupa professionalmente di educazione credo che sia una strada che dobbiamo intraprendere di competenze quindi di riconoscimento di competenze specifiche per l'insegnamento ehm al di là delle competenze ulteriori che possono essere possedute ma queste sono competenze più generaliste che sono poi quelle che nella prevalenza eh nei casi prevalenti sono necessarie e dobbiamo al contempo si sta andando in questa direzione si sta realizzando l'integrazione tra competenze digitali e altre competenze non cognitive per arrivare all'idea di un curriculum del ventunesimo secolo sono strade vi ripeto già in percorso in itirene in parte codificate in parte no ma comunque in corso di eh svolgimento l'altro elemento che sostanzialmente dovrebbe sembra che stia passando dal punto di vista culturale è quello dell'abbandono di cotomia digitale eh versus analogico la strada che si sta sostanzialmente ehm affermando è quello dell'online cioè tra l'interazione fra l'analogico che significherebbe immateriale e il digitale che significa l'online virtuale eh da questo punto di vista c'è un ci sono significative porte anche del mondo filosofico che ci spingono ad andare e ci suggeriscono di andare in questa direzione di integrazione il quarto punto è quello eh prego di guardarmi i minuti perché il quarto punto è quello del coding del making della didattica del fare potremmo dire ehm il digitale per la creatività per lo sviluppo della creatività non sto a farvi l'elenco poi consegneremo come relazioni ma le scuole italiane è fra le prime al mondo ad avere come dire importato eh nelle nostre scuole una serie di innovazioni oltreoceano proveniente dal mito di Boston e l'obiettivo è quello di declinare una serie di ehm modalità didattiche digitali eh già eh definite declinandole sui vari gradi di istruzione dalle infanzi ai primi anni della primaria con tinkering con informatica unplugged fino alle superiore con making 3d eccetera quale l'idea di fondo di fronte alla perversività oggettiva del digitale nella vita quotidiana dobbiamo insistere e siamo convinti di dover insistere perché gli studenti non perdono di vista l'approccio costruttivo creativo la capacità di essere creatori attivi di soluzioni costruzioni e costruttori digitali con l'utilizzo delle strumentazioni di cui rispongono ovvero declinare al meglio gli strumenti che comunque eh tutti loro eh di fatto proseguono una questione aperta importante anche per dimensione politica è una sorta di dicotomia che percepiamo fra eh una spinta disciplinarizzante una tendenza alla disciplinarizzazione degli insegnamenti del digitale a fronte in parola come dire a versus alla eh necessità che a noi come mondo scuola pare più eh coerente e più opportuna dell'idea dell'uso del del digitale dal punto di vista strumentale quindi il digitale utilizzato strumentalmente per costruire un quadro complessivo di crescita dell'alunno e non la disciplinarizzazione degli insegnamenti questo oltretutto è un rischio ancora maggiore nella primaria e nella scuola dell'infanzia perché la disciplinarizzazione degli insegnamenti quindi anche con insegnanti specialisti eh sulle varie metodologie digitali rischia eh di eh frantumare l'unitarietà dell'insegnamento che è definito dalle indicazioni nazionali per la scuola primaria. Tre minuti mi stanno dicendo il quinto punto è quello dell'inclusione il digitale è uno strumento potentissimo lo stiamo sempre di più eh sperimentando perché eh consente sostanzialmente la declinazione di numerosi e quindi l'attuazione di numerosi strumenti compensativi rispetto alla disabilità rispetto al limite quindi digitale come strumento compensativo per la disabilità ma non solo anche l'utilizzo digitale per tutta la classe questo anche per evitare eh l'etichettatura le delle quindi il il marchio che eh o lo stigma che deriva a chi utilizzi eh lo strumento digitale in relazione alla propria difficoltà specifica. Eh da questo punto di vista bisognerà su questo ancora c'è qualche limite perché c'è un limite di pensiero eh che che va maturato culturalmente bisognerà riflettere di più sul tema del biode cioè sull'utilizzo del proprio strumento nella nella didattica digitale perché è opportuno perché l'utilizzo del proprio strumento è facilita la didattica digitale perché ognuno conosce lo smartphone o il tablet che possiede e nello stesso tempo questa impostazione ovviamente può scontrarsi con l'idea eh eh del quindi con il ripensamento dell'utilizzo degli strumenti individuali connessi durante l'orario scolastico sono anche in questo caso ci sono due problematicità diverse il tema della connessione durante l'orario è pericoloso ma nel momento in cui venga si riesca a guidarlo nell'utilizzo del proprio strumento per la didattica digitale integrata diventa una potenzialità il tema della pandemia è un tema ben noto che ha consentito oggettivamente un sviluppo enorme delle potenzialità eh nell'utilizzo degli strumenti non solo per le segnazioni che sono venute dal Parlamento ma anche proprio per la crescita impetuosa di competenze soprattutto da anche dal punto di vista eh dei docenti eh bisogna eh verificare e cercare di contenere è una preoccupazione che abbiamo una sorta di rischio di riflusso e cioè la didattica in presenza che è fondamentale non significa didattica senza digitale il digitale è utilissimo per la didattica in presenza proprio per l'utilizzo innovativo eh delle strumentazioni di cui oggi possiamo disporre l'ultimo punto ho finito i temi sostanzialmente eh formazione percepiamo sicuramente la necessità di una formazione universitaria di sistema strutturata sul digitale al di là della formazione disciplinare che in alcuni percorsi vengono come dire viene comunque acquisita ehm sarebbe aspicabile prevedere un portfolio del docente e faremo riflessioni da questo punto di vista e utilizzando quindi nel portfolio del docente il discomp edu quel quadro europeo delle competenze dei docenti concludo ehm dal punto di vista del PNRR sapete siete a conoscenza del fatto di un'enorme quantità di assegnazioni per la didattica digitale 800 milioni per le squadre 4.0 2,1 milioni per le nuove competenze 1,1 milioni ehm il tema rimane quello che il superamento della didattica distanza non deve significare superamento della didattica digitale integrata anzi dobbiamo tesaurizzare le esperienze e le competenze acquisite in questi due difficili anni di pandemia. Io vi ringrazio. Siamo noi che la ringraziamo dottore Versari adesso do la parola ad Antonella Iunti direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale della Calabria. Prego professoressa. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Perfettamente. Grazie mille. Innanzitutto ringrazio per l'invito e saluto ovviamente lei presidente e tutti gli neonevoli deputati presenti e soprattutto li ringrazio per aver coinvolto ovviamente la Calabria anche vista appunto l'attenzione e l'ambito di taggine conoscitiva appunto in essere. La la tematica è la tematica abbastanza dedicata per un territorio critico come è la Calabria. Lo dico fin dal principio quindi prima come incipit del mio intervento perché mi sono insediata da poco ma dall'analisi diciamo dei dati di cui sono in possesso il quadro riguardante la Calabria non è obiettivamente tra i migliori tenendo anche conto che se mi rapporto già ai dati critici che evidenziava il dottor Ricci il presidente dell'invalsi già sul contesto nazionale la Calabria anche il rapporto ai dati invalsi si colloca all'ultima tra virgolette in quasi tutti diciamo in tutte le graduatorie relativamente agli ordini gradi di istruzione e delle prove invalsi quindi sicuramente è un territorio che ha tante criticità che vanno risolte e una di queste appunto attiene anche all'innovazione didattica. Per quanto riguarda cioè prima di arrivare a fare un attimo il quadro volevo fare un punto che non può dal quale non posso prescindere perché ovviamente la scuola calabrese rappresenta un po' le criticità del contesto territoriale in cui ovviamente si colloca quindi sicuramente è un problema di adeguamento al sistema scolastica di spinta al sistema scolastica all'innovazione che sicuramente va accompagnato perché è veramente in forte ritardo mi posso permettere di dire abbiamo delle punte d'eccellenza ma rappresentano rispetto al totale delle scuole calabresi che sono 360 ci attestiamo sempre su una percentuale molto bassa di scuole che sperimentano effettivamente metodologie di dati innovative. Il contesto però ovviamente diciamo territoriale non aiuta e non facilita lo semplifico in quattro punti fondamentali. Uno è sicuramente legato al discorso che accomuna la Calabria a molte altre regioni, sono consapevole ovviamente aree interne, difficoltà, contesto diciamo geografico non facile ovviamente gestione che ovviamente isola molte realtà e non facilita ovviamente lo sviluppo di quei determinati territori. In Calabria però le aree interne sono molte e a questo si accompagna l'altra è la criticità calabrese che è legata ovviamente anche a infrastrutture e trasporti che è molto diciamo in Calabria è particolarmente accettuata. La Calabria è priva diciamo quasi totalmente di infrastrutture, i trasporti non sono facili nemmeno nei territori diciamo principali a maggior ragione di mettere in comunicazione territori aree interne comunque più svantaggiati diventa un problema. Ovviamente i presidi, il servizio scolastico è visto come un presidio fondamentale per evitare povertà educativa, dispersione scolastica, per garantire lo spopolamento, evitare lo spopolamento dei territori però questo non facilita ovviamente quelle realtà che non sono supportate da infrastrutture, trasporti e soprattutto arriva l'altro problema che è il terzo punto che caratterizza la Calabria, tecnologie e redi digitali perché è ovvio che se un territorio in generale a prescindere dalla scuola non è supportato da tecnologie e infrastrutture digitali è ovvio che anche la scuola ne risente e ovviamente indirettamente e anche direttamente. Quindi il problema è anche diciamo di tipo territoriale e tenendo conto che il rapporto census sulla comunicazione digitale colloca la Calabria tra le ultime regioni per utilizzo del digitale, comunicazione digitale che caratterizza quindi sia la scuola che ovviamente poi tutte le altre amministrazioni pubbliche. Quindi queste sono le caratteristiche a cui si aggiunge un'altra caratteristica un po' particolare della Calabria che in realtà in qualche modo di cui diciamo prendo atto anche da quando mi sono insediata, la necessità di una maggiore lavoro interistituzionale perché è ovvio che comunque sia quando si parla di digitalizzazione, innovazione e quindi il rapporto ovviamente anche con infrastrutture, trasporti e tutto il resto richiede una collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali del territorio quindi non si può pensare che ovviamente l'innovazione sia rimessa esclusivamente alle scuole se mancano i presupposti. Quindi devo dire che ci vuole un rafforzamento anche della interazione tra soggetti come comuni, regioni, province, poi caratterizzando anche da molti comuni anche importanti in Calabria sono commissariati quindi questo è un'altra degli aspetti anche diventa anche esistice della gestione. Lo dico come quadro generale che in qualche modo dal quale non posso prescindere per far comprendere poi le difficoltà anche attuative ovviamente della innovazione digitale. Il che non escludi ovviamente che la scuola debba farsi parte attiva, anzi forse la scuola può essere anche vista al contrario come uno strumento di impulso positivo ovviamente per lo sviluppo del territorio e su questo ovviamente dovremmo lavorare. Però non le nego Presidente che da fare c'è molto perché le scuole fanno ma vanno accompagnate. Questi presupposti non facilitano ovviamente il tutto e poi un altro dei problemi fondamentali è l'approccio culturale al cambiamento. Abbiamo parlato di innovazione didattica, abbiamo parlato anche di innovazione ovviamente digitale. Diciamo che se faccio un passaggio pre-pandemia e post-pandemia fino al 2019 diciamo che per fare capire che effettivamente il periodo pandemico ha portato almeno in questo un aspetto positivo, una spinta anche in Calabria, prima della pandemia diciamo che c'erano su trecentosessanta scuole, solo un centinaio avevano avviato realmente un processo di sviluppo e di innovazione sia dal punto di vista tecnologico che digitale, tecnologico che diciamo didattico. La pandemia la spinta all'adeguamento almeno tecnologico e digitale ha fatto sì che ad oggi il settanta per cento delle scuole calabresi, quindi all'incirca duecentocinquanta hanno sicuramente una strumentazione, si sono dotati di strumentazioni, hanno migliorato gli ambienti scolastici, hanno potenziato le reti anche attraverso risorse sia europee che nazionali. Quindi questo sicuramente è stato un grande impulso, però devo dire che all'impulso della appunto innovazione tecnologica non corrisponde necessariamente all'innovazione didattica, per il discorso che ovviamente ci può essere l'innovazione didattica attraverso l'innovazione tecnologica, ma non è necessariamente che l'innovazione diciamo dal punto di vista delle strumentazioni comporta innovazione didattica. L'innovazione didattica comporta un cambiamento culturale che vede come soggetti fondamentali docenti e quindi spesso in realtà va accompagnato un processo di cambiamento culturale non di poco conto, perché spesso si continua a pensare che si cambia, si passa dal libro all'opera, allo strumento tecnologico, al computer, ma non è proprio questo. Questo è quello che è emerso dai dati comunque anche che ho raccolto anche in vista di questa occasione che mi ha dato lo spunto per conoscere meglio anche il mio territorio, tenendo conto appunto che mi sono insegnata da poco. E verifico appunto che ci sono delle scuole sicuramente che spiccano, anche orgogliosamente lo dico, in contesti nazionali ed internazionali, ma il rapporto saranno 20, 30, in alcuni casi 50, ma su 360 è un numero talmente risorio perché ovviamente è ovvio che l'eccellenza rispetto a volta dello zero in alcuni territori annulla mediamente l'esito dell'innovazione, la percentuale di innovazione didattica in Calabria. Sicuramente gli ambiti di innovazione sono accompagnati anche dalle politiche ministeriali attraverso le chip formative. Devo dire che il Piano Nazionale Scuola Digitale, introdotto nel 2015, ha dato un grandissimo impulso, l'istituzione e le chip formative hanno aiutato, questo sicuramente sì perché sono un grandissimo punto di riferimento. Da settembre in realtà da quest'anno scolastico, quindi anche con una ripresa diciamo anche in presenza, le scuole hanno richiesto interventi diciamo 226 scuole su 360, il che significa che comunque inizia in qualche modo a comprendersi l'importanza di una innovazione. Si richiedono soprattutto supporto per la creazione di ambienti digitali, quindi si inizia a comprendere anche l'importanza del setting, come diceva anche il capodipartimento Versali che è uno degli elementi fondamentali perché poi il problema della Calabria è anche l'edilizia scolastica, quindi anche ci sono una serie di problematiche da accompagnare edilizia, adeguamento delle edilizie e comunque cambiamento anche diciamo del setting scolastico anche in vista di un'adeguamente di un'innovazione. Sicuramente l'equipe formativa sta facendo però il problema che rilevo, se mi posso permettere, è che spesso però l'innovazione è rimessa all'autonomia scolastica e alla spontanea adesione delle scuole e anche della buona volontà dei docenti di sperimentare diciamo metodologie di tattiche innovative. Questo secondo me è un passaggio fondamentale perché se l'obiettivo quattro dell'agenda ONU ventitrenta parla di una istruzione che va garantita in termini di qualità, equità e inclusività, devo dire la verità, se questo è rimesso a un contesto territoriale che è a macchia di leopardo per quanto riguarda la connettività e le strutture, se è rimesso ovviamente alla buona volontà di dirigenti scolastici e docenti che si fanno parte attiva perché non essendoci degli obblighi ma soltanto delle spontanee adesioni all'innovazione è ovvio che è rimesso ovviamente alla adesione, alla spontanea partecipazione dei docenti. La formazione al di là del piano di formazione nazionale previsto per i docenti neoassunti che sono obbligati alla formazione, il resto ovviamente è tutto spontaneo, le equipe formative sollecitano, le faccio, le do un dato. Dall'inizio di quest'anno scolastico l'equipe formative ha formato più di tremila docenti ma in Calabria abbiamo trentadue, trentatremila docenti. È ovvio che su un numero così alto, a parte i neoassunti, capisce bene che la formazione con uno strumento strategico per il cambiamento culturale non vede una adesione spontanea. Quindi è così come scopro che in realtà scolastici che sticcavano magari per innovazione didattica non appena va in pensione magari il docente che per anni ha accompagnato quel progetto vedono quel progetto in qualche modo perdere di rilevanza. Questa dimostrazione che veramente il ruolo strategico dipende molto dalla figura del docente che cambia approccio culturale perché appunto abbiamo detto che innovazione didattica dipende da due aspetti, approccio educativo nuovo del docente e nuove metodologie di apprendimento da parte del discente. Però è ovvio che l'apprendimento non può prescindere, anzi il presupposto che ci sia un cambiamento metodologico da parte dei docenti e secondo me il punto nevralgico rimane quello. Altro problema che voglio evidenziare se mi è possibile cercando di sintetizzare il mio intervento è che l'altro approccio culturale è il fatto che bisogna condividere la nascita dell'innovazione didattica nasce comunque da un approccio diciamo di buone prassi, di sperimentazione, di documentazione e dalla documentazione nascono praticamente le buone prassi che si condividono. Se non si documenta, se non si in qualche modo traccia la sperimentazione è ovvio che non si può avviare un processo di innovazione tant'è che le stesse avanguardie educative nascono da un indire di cui siamo ovviamente dell'istituto e l'indire che è uno dei primi diciamo fattori anche di promozione dell'innovazione nel mondo scuola e su questo dibattisco in Calabria solo 73 scuole aderiscono al movimento di avanguardie educative su 360 per far capire quindi il contesto ovviamente abbastanza ristretto, la platea ristretta delle scuole aderenti ma quello che ho scoperto è che per esempio anche per molte progettualità tra lo stesso premio scuola digitale connesso al Piano Nazionale di Scuole Digitale istituito dal Ministero per poter partecipare ad un'adesione bassissima delle scuole regionali tipo l'ultimo premio ha visto su 360 scuole 66 scuole un dato molto basso. Ho cercato di capire il perché di questo elemento ovviamente è un numero molto basso e quello che emerge tra le tante criticità ovviamente è che spesso le scuole magari sperimentano anche ma la sperimentazione rimane chiusa nel cortile scolastico, non viene diffusa, non viene condivisa per poter partecipare al premio scuola digitale c'è la necessità ovviamente che la scuola documenti il docente, sperimenti e tracci ovviamente quella innovazione se questo non avviene, questo per esempio è un elemento di impedimento ma anche indicativo ovviamente di quello che succede cioè il fatto che spesso l'innovazione passa attraverso una condivisione che evidenzi buone prassi, che poi si consolidino e che diventino diciamo sperimentazioni strutturate sul territorio regionale poi magari nazionale e poi magari attraverso i soggetti deputati magari diffuso tutto questo ovviamente non avviene, è un po' caratteristica anche ribadisco del territorio che gestisco che va molto stimolato perché non c'è la tendenza all'apertura e quindi questo probabilmente forse alcuni territori, alcune regioni sono un po' più aperte e tendono a condividere, hanno delle influenze ovviamente all'apertura e alla condivisione, la Calabria sicuramente non si caratterizza per un'apertura particolare e va molto spinta sicuramente nella progettualità e va accompagnata, ma il quadro che ne emerge allo Stato è sicuramente un quadro non rosio e soprattutto, le ripeto, anche se mi baso sui dati invalsi ora vedremo quelli del duemilaventidue, ma temo che non ci sarà un cambiamento se mi posso permettere di anticipare qualcosa, penso perché non vedo grandi cambiamenti, ho avuto anche la fortuna di confrontarmi con il dottor Ricci qualche tempo fa, quindi la necessità anche di un accompagnamento alla Calabria per cercare di come cambiare ovviamente l'approccio anche all'innovazione al cambiamento ovviamente alla necessità di adeguare l'apprendimento dei ragazzi alle richieste della società, però ovviamente un percorso che richiede tempo ma che va sicuramente spinto e accompagnato. Grazie Grazie a lei dottoressa, do la parola adesso a Dettora Cerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania. Prego dottora Cerra Buon pomeriggio, grazie a tutti, spero che il mio audio sia buono Sì, molto forte, bene, ottimo Allora parlo più piano Allora, i ringraziamenti non sono solo formali perché avere l'occasione, signor Presidente, onorevoli di poter illustrare alcune delle caratteristiche della regione che in questo momento dirigo è veramente un'occasione speciale e veramente vi ringrazio insomma Molte cose sono state dette, in particolare il Capo Dipartimento ha richiamato dei punti fondamentali e quindi su alcuni di questi non tornerò Sappiamo tutti che la Campania è la seconda regione d'Italia in quanto al numero di scuole e di alunni e studenti è una regione estremamente complessa è una regione caratterizzata, come sapete, da un'area metropolitana molto forte che è l'area metropolitana di Napoli che tra l'altro è oggetto di una particolare attenzione la settimana scorsa è stato firmato anche dal nostro Ministro il patto educativo per l'area metropolitana di Napoli e quindi sostanzialmente è un territorio caratterizzato da una forte complessità ma anche da grande diversificazione fra diverse aree perché abbiamo anche in Campania molte aree interne abbiamo delle grosse differenze anche nei risultati in termini di competenze per cui praticamente è una regione che, ma questo già lo sapete, che ha una forte caratterizzazione e il termine a macchia di leopardo che ha usato anche la collega Iunti credo che anche nella Campania, anzi per alcuni aspetti più di altre regioni, si attagli perfettamente riprendo alcune cose che sono state dette per specificarle e contestualizzarle molto correttamente il Capo Dipartimento parlava di tre fattori di hardware, software e setting per quanto riguarda l'innovazione digitale mi posso permettere assolutamente d'accordo con lui e voglio sottolineare il fatto che mentre gli investimenti degli ultimi anni hanno consentito per l'hardware e il software di fare dei grossi passi avanti quantitativi per il setting ancora non ci siamo nel senso che la Campania, come molte altre regioni, ha grossissimi problemi di edilizia scolastica ha grossi problemi di trasformare gli ambienti di apprendimento ha grossi problemi nel seguire il processo di innovazione anche dal punto di vista proprio dei laboratori come sono tradizionalmente concepiti quindi dal punto di vista degli ambienti di apprendimento c'è molto da fare una considerazione anche sull'organizzazione della rete scolastica della Campania che in questo momento parrebbe un fattore magari estraneo all'argomento di cui stiamo parlando ma vorrei sottolineare che l'estrema dispersione e frammentazione dei punti di erogazione del servizio sul territorio regionale se da una parte consente di avvicinare l'offerta formativa alle comunità anche più distanti da un'altra parte provoca anche delle oggettive difficoltà nell'omogeneizzare la qualità e la quantità delle strutture delle infrastrutture del software quindi su questo insieme alle interregioni si sta facendo un ragionamento perché negli ultimi anni il piano di razionalizzazione della rete scolastica è rimasto abbastanza fermo e su questo bisogna fare un ragionamento anche perché bisogna capire quali siano le scelte più adatte per i territori se ragionare per poli da rafforzare molto anche dal punto di vista delle infrastrutture digitali oppure se conservare l'attuale distribuzione sul territorio ripeto non voglio tornare su cose che già sono state dette però voglio sottolineare alcuni aspetti che possono essere interessanti per quanto riguarda la realtà campana la collega Iunti sottolineava già l'importanza dell'azione dell'equipe formativa territoriale nell'ambito del PNSD l'opera dell'equipe formativa territoriale soprattutto in periodo di pandemia è stata fondamentale abbiamo dei dati ultimi, proprio dell'ultimo trimestre che ci dicono che l'equipe formativa territoriale che in campagna è formata da 25 persone, 25 docenti ha raggiunto 557 scuole e 6500 docenti ed è importante perché praticamente soprattutto in tempo di pandemia questa equipe formativa ha svolto un ruolo fondamentale nell'accompagnamento delle scuole e in alcuni settori come il coding, le piattaformi learning, la robotica, la cittadinanza digitale e non sto qua a elencarle tutte nell'ambito del PNSD sta partendo il progetto Innovamenti che è un progetto che di particolare interesse a mio parere e che finora ha visto aderire 244 scuole e a fine maggio ci sarà un primo momento di riflessione su questo progetto che io trovo estremamente interessante brevemente torno su alcuni dati per quanto riguarda gli investimenti che sono stati fatti il capo dipartimento Versari parlava dell'investimento sulla banda ultralarga è un investimento molto forte che in campagna ha visto 546 progetti approvati e 127 interventi finora realizzati è importantissimo perché prima si parlava di connettività e non ripeto certo quello che è stato detto ma con il programma sulla banda ultralarga sicuramente vi saranno dei passi avanti ma si diceva ancora più giustamente l'innovazione tecnologica non corrisponde necessariamente all'innovazione didattica quindi dobbiamo cercare di far camminare insieme questi due aspetti e oltre all'attività dell'equip formativa territoriale vorrei sottolineare l'attività dell'equip regionale per quanto riguarda l'attuazione del piano di formazione regionale questo piano di formazione regionale negli ultimi tre anni ha raggiunto 30.000 insegnanti più 10.800 neoassunti sono numeri importanti naturalmente non sono tutti ma su questo bisogna investire sempre di più tenendo presente che sono d'accordo con la collega quando dice che diciamo l'autonomia scolastica è una bellissima cosa però certe volte molti di questi interventi e molte di queste azioni sono un po' lasciate non dico la libera scelta ma insomma non coinvolgono tutte le comunità scolastiche e alle volte c'è anche una difficoltà di ottenere una ricaduta della formazione di alcuni insegnanti su tutta la comunità scolastica però ritengo che i processi di accompagnamento di formazione di accompagnamento siano molto interessanti e volevo segnalare che l'equip formativa che si occupa della formazione regionale dei docenti sta ragionando su un nuovo profilo che nei piani attuativi della formazione in Campania è stato studiato è quello di una specie di docente senior non so come definirlo che loro vorrebbero denominare conductor detto alla latina nella sua accezione di guida esperta che facilita il contatto con l'esempio di buone pratiche e l'incontro con ambienti di insegnamento e apprendimento in cui si realizzano progetti di innovazione didattica e metodologica questa esperienza è una delle esperienze che può essere considerata più interessante anch'io come la collega ho fatto un'indagine, un ripasso di quelli che sono alcuni numeri riguardanti iniziative che possono essere particolarmente significative per esempio su Avanguardia Educativa che è comunque un'iniziativa importante vi sono in Campania centottantuno scuole che adottano il manifesto delle avanguardie educative non sono tantissime, sono circa il venti per cento ma è una percentuale importante segnalo anche la diffusione in Campania molto forte delle scuole che adottano i progetti eTwinning progetti eTwinning che nel periodo della pandemia sono stati un'occasione veramente preziosa per poter conservare i rapporti e rafforzare anche i rapporti e soprattutto con i paesi stranieri in Campania sono stati attivati quattromilacinquecentotrentuno progetti da dieci anni a questa parte di cui cinquecento solo nell'anno duemilaventuno coinvolgendo mille e duecentotrenta scuole siccome in Campania ci sono novecentottanta scuole in tutto naturalmente ci sono alcune scuole che hanno aderito a più progetti chiudo facendo una riflessione sulla questione della pandemia o comunque di quello che possiamo, permettetemi, ereditare dalla pandemia l'ufficio scolastico regionale della Campania quando io ancora non c'ero ha formato una task force per poter accompagnare le scuole nel periodo della pandemia che come sapete in Campania ha visto un numero di giorni di edad superiori rispetto alla media nazionale questa task force ha prodotto una pubblicazione non volesse un manuale, è una pubblicazione di accompagnamento che si chiama una bussola per le istituzioni scolastiche che è ancora pubblicato sul sito, è dell'inizio duemilaventuno però lo ritengo particolarmente interessante anche perché in questo materiale si trovano anche delle best practice che sono veramente un esempio per tutte le scuole questo è il quadro al momento della Campania è un quadro che sicuramente non è un quadro semplice anzi io sono anche qui d'accordo con la collega penso che anche le rilevazioni standardizzate nazionali di quest'anno non è che ci porteranno a dei grossi miglioramenti anzi speriamo bene insomma però io credo che ci sia una grossa attenzione del sistema scuola non solo del sistema scuola ma di tutte le istituzioni e il patto educativo per l'area metropolitana ne è un esempio quindi insomma credo che dobbiamo abbiamo il dovere di pensare positivo e di fare tutto il possibile per migliorare la situazione e per combattere le cosiddette povertà educative che costituiscono veramente una piaga delle nostre regioni meridionali vi ringrazio dell'attenzione grazie dottore Acerra do la parola adesso all'onorevole Fusacchia che è collegato con noi da remoto che è stato il proponente appunto dell'indagine conoscitiva prego onore Fusacchia grazie presidente mi sente? mi sentite? si la sentiamo prego allora io volevo anzitutto ringraziare quattro colleghi che sono intervenuti perché chiaramente la prospettiva presente ci eravamo detti per questa indagine la prospettiva anche del lato istituzionale è fondamentale noi avevamo audito una serie di persone di realtà prima della pandemia e stiamo facendo questo doppio giro e questo supplemento di indagine perché ovviamente è cambiato il mondo nel frattempo come voi stessi avete evidenziato io volevo fare un veloce commento e poi avevo un paio di domande per alcune delle persone che sono intervenute allora il commento è che chiaramente io concordo molto con quello che diceva il dottor Versari attenzione perché chiaramente la didattica a distanza non è piaciuta a nessuno ma come si direbbe non buttiamo il bambino con l'acqua sporca e quindi come facciamo in modo che ovviamente capiamo che la scuola è presenza, è fisicità, è corpo però allo stesso tempo la tecnologia ci può aiutare a fare tante cose che prima non si potevano fare su cui è maturata una nuova consapevolezza la seconda cosa che volevo dire mi sembra un punto di rimente di quello che ha toccato Versari è questo dibattito che oggettivamente ritorna fra devo fare l'ora di digitale oppure di digitale e trasversale allora io e qui è una domanda che volevo fare al capo dipartimento io penso che siamo tutti dalla stessa parte o almeno sono abbastanza convinto che lo siamo credo ci sia qualche altro collega magari non la pensa esattamente nello stesso modo però il ragionamento per cui evitiamo quando si tratta di questioni di genere di questioni di tecnologia cioè di ghettizzarle in un ambito questo è fondamentale il problema caro Versari è che cosa succede? è che siccome non è di nessuno è di tutti non è più di nessuno e quindi quali sono le due criticità che vedo? sposando in pieno l'approccio che sentivo prima come facciamo ad assicurarci che qualcuno queste competenze di base le insegni digitali ai vari livelli perché altrimenti diamo tutti per scontato che c'è una specie di apprendimento naturale e questo poi c'è un pezzo di domande che volevo collegare a Ricci la seconda cosa è come facciamo a quel punto però a misurarle a valutarle cioè se diventano una strumentazione orizzontale sono il nuovo alfabeto però per l'alfabetizzazione di base c'è un processo per cui qualcuno insegna a leggere a scrivere a fare di conto come si diceva questa nuova alfabetizzazione come la strutturiamo e la misuriamo partendo dall'assunto che sono d'accordo che deve essere orizzontale a tutte le materie a tutti gli ordini di istruzione i gradi di istruzioni a tutti gli insegnanti e il nodo e qui vengo sulla domanda è abbiamo visto un miglioramento in questi due anni, tre anni di pandemia che poi è un nodo su cui noi ci vogliamo concentrare sull'indagine per quello che riguarda la preparazione dei docenti, l'attenzione dei docenti il cambio culturale che il corpo docente inteso in senso complessivo deve avere per poter avere un nuovo atteggiamento rispetto a questo e questo lo collego anche a un punto che sollevava la dottoressa Iunti prima la formazione dei docenti abbiamo dei numeri che sono sicuramente insufficienti perché ovviamente dovrebbero riguardare tutti soprattutto è molto chiara la distinzione fra i neossunti e il corpo docente che già abbiamo ma anche lì che valutazione fate voi della qualità di questa formazione cioè effettivamente uno strumento che cambia la storia di un docente personale per cui fatta questa formazione a prescindere dal livello di partenza, livello di uscita come dire c'è stato un piccolo cambio culturale ma soprattutto una significativa capacità aumentata di poter gestire certe strumentazioni, certi ambienti digitali oppure e vorrei che fossimo molto onesti fra di noi continua ad essere un grande esercizio che produce piccoli effetti e per la gran parte è un esercizio, lo dico con rispetto per la parola che sto per usare amministrativo, procedurale ma che non cambia nella sostanza le ultime due domande presidente sono una piccola nota molto specifica per il dottor Ricci per il presidente Limbalzi rispetto al rapporto ICIS che citava e quindi al rapporto sulle competenze digitali volevo capire se noi abbiamo dei dati a disposizione sulle fonti della preparazione e dell'apprendimento dei ragazzi cioè quando parliamo di digitali, competenze digitali oltre a misurare i risultati, le competenze, le capacità secondo me sarebbe a maggior ragione rispetto a quello che dicevo prima molto utile capire i bambini, i ragazzi, le ragazze anche a diverse fasce d'età dove imparano queste cose perché è evidente che le imparano in tanti posti, in tanti mondi che non sono solo nella scuola allora c'è una capacità pubblica di pubblica inteso delle istituzioni pubbliche di misurare o comunque monitorare e magari in certi casi anche incoraggiare forme di apprendimento per cui l'apprendimento del digitale non è semplicemente da fare come si faceva un tempo ma va indirizzato, va incoraggiato ma ci sono più fonti di apprendimento e di preparazione e l'ultima cosa che volevo chiedere mi ha molto colpito questo punto delle equippe formative e lo collego a questo ragionamento qui uno è, ho capito che stanno facendo delle cose e torno alla domanda di prima quanto poi sono efficaci nel trasferimento di conoscenze e di competenza che poi è il nodo vero di tutto però ho capito che queste equippe formative fanno abbastanza ma non fanno tutto quello che servirebbe allora volevo chiedere alla filiera ministeriale capo dipartimento e i due direttori degli USR è una questione di risorse scarse cioè ne abbiamo poche di queste equippe formative e quindi servirebbe metterne di più in campo in termini di risorse umane, capacità, preparazione oppure c'è un blocco strutturale di altra natura che non ha che a vedere con quanti sono e quello che fanno per cui si fa fatica a procedere ad un passo più veloce e l'ultima questione è la questione del mi ha colpito molto lo diceva la dottoressa Iunti che è un dramma francamente non solo della scuola ma di tutte le organizzazioni migliamente complesse italiane e non solo italiane la memoria che si perde quando uno va in pensione che però era anche in un altro caso la memoria che non esiste che non viene creata quando si fa una sperimentazione io così l'ho capita allora cosa ci possiamo inventare da un punto di vista istituzionale e strutturale per ovviare almeno in parte a un problema che è un problema gigantesco di tutto il paese le aziende perdono pensionati d'oro come dire d'oro nel senso con grandi conoscenze e l'azienda che se ne vanno con le loro conoscenze però questo problema a un certo punto andrà affrontato allora la domanda è c'è margine per ragionare questo forse lo chiedo più al capo dipartimento per qualche forma di sperimentazione perché oggi la tecnologia ce l'abbiamo tutta non solo per fare le nostre audizioni a distanza o le lezioni in classe a distanza ma ci abbiamo fiorfiori di start up fiorfiori di tecnologia fiorfiori di designer fiorfiori di competenze creative di vario tipo per cui forse a fronte del problema come affrontiamo il fatto che chi va in pensione nella scuola si perde quel capitale che spesso è decisivo per quella scuola o sperimentazioni interessanti vengono fatte non restano possibile che il ministero il governo il ministero con lo spinta del Parlamento non riesce a fare qualche sperimentazione su questo e a capire come preserviamo la memoria e facciamo questo trasferimento di memoria che cosa ci possiamo inventare su questo? Grazie Presidente Grazie Onorevole Fusacchia do la parola all'Onorevole Aprea che è qui in presenza prego Grazie Presidente ringrazio i nostri auditi soprattutto per i ruoli che ricoprono e che ci hanno oggi fatto un po' capire lo stato dell'arte bene io credo che noi abbiamo bisogno di condividere una consapevolezza la scuola italiana non educa il futuro non tutta e siamo nel 2022 siccome sappiamo che i ragazzi che sono già nelle nostre classi lasceranno la scuola secondaria superiore nel duemila e trentacinque e quando poi andranno all'università saranno si troveranno a vivere nel duemila e quaranta quindi quando dovranno poi entrare nel mercato del lavoro noi dobbiamo accettare l'idea che oggi in questo tempo dobbiamo trasformare tutta la nostra scuola in una scuola del futuro perché non possiamo sapere come si vivrà tra tredici anni sedici anni ma certo sappiamo che la tecnologia non abbandonerà né questo mondo né le nostre società né la vita di tutti i giorni e men che mai quella di chi lavorerà e quindi la scuola non può più aspettare e devo essere chiara mi spiace ancora sentir parlare di sperimentazione mi spiace ancora sentir parlare di chi avanti e di chi indietro perché se è vero e lo sappiamo che regioni come la Campania e la Calabria eh hanno situazioni difficili allora dobbiamo fare i conti con la dispersione per esempio scolastica esplicita ed implicita e cominciare proprio da quelle zone a cambiare l'educazione a fare della scuola digitale della scuola del terzo millennio la nuova sfida non possiamo più accettare perché ora alibi non ne abbiamo più perché prima si diceva mancano le risorse le strumentazioni come ha detto Beneversari le strumentazioni stanno arrivando bisogna saperle usare i setting li stiamo cambiando anche le scuole con le scuole stiamo destinando tantissimi miliardi per innovare le scuole eh l'edilizia scolastica la revisione scuola e ehm di che cosa abbiamo bisogno allora di una nuova generazione di docenti non solo di neoimmessi ma docenti che sappiano insegnare diversamente decidendo di non fare più gli insegnanti motivatori ma motivatori dell'apprendimento cioè essere tutor e coach di ragazzi che devono apprendere anche attraverso il gli strumenti digitali del terzo millennio è una cosa completamente diversa dall'insegnante che abbiamo conosciuto finora ecco allora adesso però fra un po' non avremo più neanche quest'alibi perché stiamo per destinare ottocento milioni per la formazione digitale dei docenti della scuola italiana allora che cosa mi aspetto io dai vertici istituzionali un piano di intervento eh capillare perché massiccio è nei fatti perché ottocento milioni che vengono destinati da qui al duemila e ventisei per la formazione digitale mi pare una cosa considerevole e importante allora da dove partiamo quali sono quelle zone che più di altre hanno bisogno di cambiare modalità di apprendimento di insegnamento apprendimento e soprattutto come facciamo a tenere sotto controllo quei fenomeni da contrastare come la dispersione scolastica implicita ed esplicita soprattutto quella implicita perché noi sappiamo che in alcune regioni anche ragazzi che hanno studiato alla fine non sanno leggere e scrivere non fanno a volte non comprendono un testo in lingua italiana eccetera eccetera adesso non sto qui non voglio prendere il posto del dottor Ricci che saluto ma allora e che ringrazio per quello che ci ha detto lui ci ha detto chiaramente siamo all'ultimo posto e quindi tra i paesi Ox il digital divide è pazzesco allora ecco quello che vorrei dire insomma basta sperimentazione e concludo e voglio sapere se c'è questo piano in quanto tempo noi riusciremo a formare tutti i docenti della scuola italiana atteso che stanno per arrivare ottocento milioni di euro per questa formazione digitale ce la faremo a rendere obbligatorio come dice il documento di PNRR lo studio del coding dall'anno scolastico duemilaventitrei ventiquarto partire non dico dalla scuola dell'infanzia ma almeno dalla scuola primaria ce la faremo a rendere la scuola più multidisciplinare e meno disciplinare e fare in modo che anche la valutazione non sia più incentrata solo l'ho accennato un po' l'ho accennato in un passaggio il dottor Versari non più solo centrata sulle conoscenze ma sulle competenze anche su quelle non cognitive cioè formare la persona e quindi tutte quelle capacità problem solving capacità di ascolto capacità di lavorare in team che presuppongono non già una classe e un insegnante ma un'organizzazione di setting di apprendimento usa ancora la parola diversare completamente diversa ecco in questo processo e mi arrivi alla conclusione presidente che abbiamo iniziato abbiamo ascoltato sia esperienze molto avanzate che eh istituzioni fondazioni eh che hanno già lavorato per introdurre questi metodi abbiamo ascoltato anche eh in dire piuttosto che eh di dirigenti delle scuole innovative però questo è stato le cioè per vent'anni abbiamo sperimentato oggi non abbiamo più tempo di scegliere chi mandare avanti oggi la scuola italiana tutta ecco allora quando avremo il piano la roadmap di questa trasformazione ripeto atteso che alibi non ce ne sono più ci sono tutte le leggi e tutti i finanziamenti che dovrebbero consentire questo eh a questo upgrade nella scuola italiana che tempi ci diamo grazie grazie a lei onorevole Abrea chiesto di intervenire dell'onorevole Vacca prego onorevole sì grazie presidente ringrazio anch'io ovviamente gli auditi e per questo quadro come dicevano i miei colleghi stiamo abbiamo iniziato questo percorso approfondimento su un tema che quanti noi la commissione l'ha detto varie volte riteniamo centrale per il futuro del nostro sistema paese non soltanto ovviamente del mondo scuola che qua parliamo del futuro proprio del sistema paese e dell'Italia io concordo un po' con gli interventi che sono stati fatti di dai miei colleghi da chi mi ha preceduto e io credo sono entrato in parlamento in questa commissione nel circa dieci anni fa e prima ero un insegnato un docente ho fatto molto attento a questi temi ho fatto master ho fatto formazione specifica su innovazione digitale e confesso che la scuola che guardo che vedo adesso sia come parlamentare come ovviamente politico che segue in prima persona questi temi ma anche come ad esempio adesso come genitore con un figlio che si ha frequentato le elementari e si appresta a entrare nella scuola secondaria di primo grado ma in generale un po' figli la scuola che osservo anche da genitore e non è purtroppo non è molto diversa dalla scuola di dieci anni fa questo lo confesso perché è stato detto penso che la collega Pre abbia centrato bene il problema cioè noi qua continuiamo a parlare di progetti continuiamo a parlare di piani continuiamo a parlare di interventi straordinari io credo che il salto di qualità la scuola lo farà veramente quando l'approccio al digitale quando gli strumenti digitali quando i linguaggi digitali diventeranno routine diventeranno la normalità e non la straordinarietà perché i dati che ci avete fornito che noi conosciamo eh ma i dati anche nelle regioni dove dove il contesto socio-economico la la l'approccio che da sempre magari quelle regioni hanno su determinati temi eh facilita l'introduzione ha facilitato in passato e quindi sono un po' più avanti per quanto riguarda sperimentazioni innovazione utilizzo le nuove tecnologie ecco io bisogna iniziare a non parlare più di sperimentazione la sperimentazione su qualcosa che noi non è su quello di cui stiamo parlando oggi la sperimentazione già hanno acquisito certe eh metodologie e un certo approccio alla eh scuola alla formazione la fanno già stanno facendo su altro noi qua parliamo dell'acquisizione diciamoci la verità noi oggi docenti gli strumenti che hanno i primi strumenti che hanno per entrare in classe sono ancora il libro e il quaderno tutto quello che viene non tutti ovviamente ci sono dei docenti particolarmente preparati e particolarmente più attenti a questo e che sono più sensibili ma la lo standard la media i vostri numeri ce l'hanno confermato è quello ancora di un corpo docente che non è formato per mediamente per l'utilizzo del nuove tecnologie come strumenti eh ampiamente eh condivisi allora non per colpa dei docenti ovviamente non è una so colpevolità dei docenti ma la fotografia che noi abbiamo delle nostre scuole è questa sono le in quadro molto eterogeneo dal punto di vista territoriale qua c'è un altro tema il cui bisogna lavorare il PNRR è una grande occasione ovviamente cioè quello della situazione eterogenea nei vari territori il rischio è che eh il quadro che ci hanno eh dipinto ad esempio due regioni come la Calabria e la Campania ce lo confermano il rischio è che innovazione digitale sia partita sia già sistema in regioni che erano già più avanti erano già più facilitate ovviamente nell'utilizzo di alcuni eh paradigmi e che invece altre regioni che invece per motivi il sociali ovviamente storici culturali di infrastrutture eccetera restino indietro e quindi il divario aumenti invece di diminuire quindi il primo tema così come l'abbiamo sollevato anche noi come commissione in vari atti di indirizzo al Parlamento è quello di utilizzare queste tante risorse che arriveranno e abbiamo visto che il ministero eh sta cercando di improntare i piani di intervento proprio su questo eh su questo principio cioè quello di diminuire il divario territoriale cercare di colmare il gap che ci sono tra alcuni i gap che ci sono tra alcuni territori quindi primo tema secondo tema come si diceva è quello di fare in modo che l'approccio tecnologico l'innovazione tutto ciò che riguarda il digitale diventino strumenti non aggiuntivi ma cambi il paradigma proprio dell'insegnamento e del fare eh scuola perché lo sappiamo benissimo qua non si tratta di avere uno strumento in più o in meno nella didattica non è soltanto questo eh conoscere utilizzare il linguaggio digitale vuol dire stravolgere il paradigma di insegnamento stravolgere i paradigma cognitivi stravolgere cambiare completamente il modo in cui ci si approccia ovviamente l'utilizzo dei linguaggi con cui si comunica con i ragazzi con cui si fa scuola quindi vuol dire fare una scuola diversa rispetto a quello in cui tradizionalmente eh la scuola italiana è abituata quindi noi dobbiamo agire sulla formazione iniziale innanzitutto dei docenti di chi entrerà nelle nostre scuole è importantissimo questo le risorse del PNRR dovranno essere ovviamente impiegate benissimo anche per questo e fare un grandissimo piano di formazione del corpo docente ovviamente del corpo docente in servizio perché quello che è stato ho descritto che lo sappiamo benissimo che spesso le i progetti migliori le scuole che sono più attente lo fanno proprio perché ci sono dei docenti che negli anni hanno avuto una sensibilità maggiore hanno acquisito competenze passioni eccetera e quindi sono riusciti a mettere a servizio delle scuole la propria passione e la propria la propria competenza ma quando poi questi docenti non ci sono più perché non ci sono che si vengono trasferiti o perché vanno in pensione la scuola rischia di perdere quella impronta bene dobbiamo fare in modo che invece non sia soltanto sulle spalle di un singolo docente di un gruppo di docenti l'innovazione l'utilizzo degli strumenti digitali ma che diventi un patrimonio di tutto il corpo docente di tutta la comunità scuola questa è la sfida e questo lo potremo avere soltanto quando appunto diventerà patrimonio di tutti e quando avremo un piano di formazione eh per tutto il corpo docente sia in ingresso che in itinere ehm ma questo credo e concludo con con quest'ultima osservazione che ehm tocchi anche un altro argomento un'altra questione cioè quello del ripensamento della eh didattica del anche della i piani di studio e della ehm dei curriculum all'interno delle nostre scuole perché non ripeto non è soltanto aggiungere strumenti didattici i forni del eh ai nostri docenti o inserire nuovi strumenti didattici nelle nostre scuole imparare a utilizzare gli strumenti non è didattica digitale non è soltanto quello didattica digitale è ripensare proprio l'insegnamento e quindi credo che sia importante anche avviare una riflessione sui cicli stoccolastici ovviamente qua siamo a fine legislatura e come Parlamento potremmo fare ben poco perché queste sono riflessioni ehm di che devono avere più anni ma credo che sia importante riflettere e avviare una serie riflessione sui cicli delle nostre scuole sulle materie sugli insegnamenti sulle discipline sui saperi noi siamo ancora sostanzialmente nonostante gli sforzi sono stati fatti negli ultimi anni fermi alla suddivisione dei saperi della scuola eh tradizionale italiana ecco anche una riflessione su quello credo che sia che non si tratta ovviamente non si riduca ad introdurre materie aggiuntive ma che sia un ripensamento proprio dell'insegnamento dei saperi dentro le nostre scuole e anche lì probabilmente quando avverrà eh quello si arriverà a un probabilmente una consapevolezza maggiore anche nell'utilizzo dei linguaggi digitali degli strumenti digitali grazie onorevole Vacca chiesto di intervenire l'onorevole Melicchio prego onorevole grazie presidente eh un ringraziamento anche ai soggetti auditi per le loro relazioni eh guardate io personalmente ritengo che dopo la pandemia che ci ha messo di fronte una serie di problematiche eh importanti eh ritengo che questa debba essere anche la ragione per eh tornare non al mondo di prima ma a un mondo migliore a una scuola migliore in questo caso proprio in virtù di quello che eh la la situazione sanitaria ci ha ci ha chiesto gli sforzi che ci ha chiesto a tutto a tutto il sistema paese eh e quindi mh come dire possiamo farlo durante la pandemia abbiamo visto sicuramente i limiti eh degli strumenti eh tecnologici digitali del nostro paese abbiamo visto che non è possibile sostituirli a quelli tradizionali perché la DAD sicuramente ci ha permesso di portare avanti la formazione dei nostri dei nostri studenti ma eh certamente ha permesso anche una formazione possibilmente peggiore rispetto a quella eh garantita dai dai sistemi tradizionali allora sicuramente eh se noi vogliamo tornare ad una scuola migliore di quella eh precedente alla pandemia questo deve continuare eh gli strumenti come la DAD devono continuare ad esistere ma a sostegno sul porto e certamente non eh non sostitutivi e la dottoressa Iunti ha detto un qualcosa di eh estremamente importante cioè che eh l'innovazione didattica non è solo innovazione digitale e e e quindi non può valere in in entrambe in entrambe le le direzioni noi per anni abbiamo parlato di eh innovazione della didattica anche con eh strumenti che di tecnologico avevano poco come l'inversione delle classi o eh le classi due punto zero quattro punto zero che vedevano come dire no le le sedute innovative al centro di questo e i pedagogisti ce ne hanno parlato per oltre un decennio poi purtroppo quello quando c'è stata l'occasione di innovare le nostre scuole da quel punto di vista è diventato un terreno di scontro politico eh ahimè eh di certo sono 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 sicuro che eh hanno contribuito e contribuirà anche quello al al miglioramento delle nostre delle nostre scuole da calabrese poi eh voglio concludere eh dicendo che le problematiche sicuramente ci sono nella mia nella mia regione ma esistono eh esistono tanti buoni tanti buoni esempi esistono anche diverse diverse eccellenze e quelle problematiche ecco non devono essere una scusa per per non fare per eh come dire trincerarsi dietro un un cattivo risultato perché sappiamo che eh e ne abbiamo gli esempi chi vuole chi vuole fare fa e fa eh fa buona buona didattica eh sicuramente gli organi dello Stato il Ministero il Parlamento devono garantire un un controllo su chi non fa e anche magari pensare a degli strumenti normativi che permettono eh di che permettano di incentivare eh a fare di più a mettersi sullo stesso piano dei loro corregioni dei loro stessi corregionali che comunque rispettano degli standard eh degli standard di tutto il paese chiudo eh con due note positive perché noi eh abbiamo eh è in corso al Senato la la prima lettura per la conversione in legge di un di un decreto legge importante sul sul reclutamento eh scolastico e proprio anche in riferimento a quelle problematiche sulla formazione dei docenti eh sicuramente è uno strumento il decreto quel decreto legge che si può migliorare si deve migliorare durante la fase la fase di conversione però eh ecco eh ha il merito secondo me di pensare ad una eh formazione continua dei docenti che è incentivante non penalizzante ma incentivante secondo me quella è una intuizione sulla quale certamente lavorare per per migliorarla ma che può dare può dare grossi frutti proprio in virtù del fatto che abbiamo esempi eh come c'è stato riportato di eh personale docente che fa la formazione eh anche al di sotto del dieci per cento di tutta la popolazione così come la grande eh occasione che abbiamo dei tanti investimenti che eh ci sono in questo momento mai come mai come prima d'ora perché il digital divide è un problema che esiste c'è ma c'è su tutto il territorio nazionale grazie grazie a lei non ho più iscritti comunico intanto che il dottore Ricci si è dovuto allontanare per un altro impegno istituzionale però c'è con noi la dottoressa Maria Teresa Marzano che è responsabile della comunicazione degli imbalzi che ha preso nota appunto delle nostre domande e il dottor Ricci poi ce le farà avere per iscritto quindi do la parola adesso agli auditi per le repliche comincerei con il dottor Bersari dottor Bersari una breve replica vi prego di stare un po' nei tempi grazie dottor Bersari non la sentiamo deve attivare l'audio mi sentite? adesso si prego perché aveva la spia blu che doveva dire audio attivato ma non era attivato mi scusa ringrazio la presidente e i parlamentari intervenuti Fosacchia Prea Vacca e Melicchio provo a rispondere in maniera estemporanea quindi come sempre accade ci si ricorda delle ultime ma mi sono appuntato alle prime domande direi che non è vero che non sia cambiato in dieci anni è chiaro che ognuno di noi parla secondo la percezione ma tutte le ricerche che abbiamo fatto su come su cosa che è avvenuto con l'emergenza covid ci dicono che gli insegnanti si sono attivati in maniera confusa estemporanea un po' come dire anche pasticciate in alcuni casi ma dalla sera alla mattina la scuola italiana anche gli altri paesi ma io parlo della scuola italiana è oggettivamente stato in grado di partire di fronte a una situazione di confusione totale e nei mesi successivi ha migliorato notevolmente e progressivamente le competenze nell'utilizzo delle tecnologie digitali in termini che dicevo prima dimestichezza e spirito critico quindi oggettivamente e questo non lo dico come io non devo difendere lo dicono le ricerche numerosissime che sono state svolte un'altra delle questioni che veniva posta e qui stiamo facendo delle riflessioni quindi è un confronto e vi ringrazio perché è un arricchimento per noi per me per i colleghi un'altra riflessione che si è posta mi sembra l'onorevole Vacca e si connette anche a quella dell'onorevole Cusacchia l'onorevole Vacca dice giustamente osserva è necessario cambi il paradigma non si tratta di aggiungere come dire di sovrapposizioni di materie quindi non materie discipline di nuovi strumenti che aggiungo alla scuola che rimane così come era prima deve cambiare il paradigma e l'onorevole Cusacchia molto pragmaticamente si chiedeva sì ma quando cambia sostanzialmente il paradigma quali sono i tempi allora io non vi rispondo su questo poi rispondo con un dato perché non ho la sfera di cristallo però vi ricordo come dire quello che è il pensiero di un filosofo degli anni sessanta che tuttora è scientificamente ritenuto condivisibile e tuttora quindi come pensiero fermato quello di Thomas Kuhn che scriveva in primo luogo che i cambiamenti di paradigma non sorgono direttamente con le rivoluzioni scientifiche ma quando il paradigma dominante in cui opera la scienza lui la chiamava la scienza normale cioè la quotidianità del fare scuola nel nostro caso quando il paradigma dominante in cui opera la scienza normale viene reso incompatibile con nuovi fenomeni facilitando l'adozione di un nuovo paradigma quindi intanto dobbiamo pensare non alla rivoluzione del digitale che c'è ma come cambia il paradigma nella quotidiana dalla quotidianità e che cosa chiede di ripensare il nuovo paradigma i concetti base i metodi e i problemi e al che osserva concludendo il cambiamento di paradigma è più dammatico è più drammatico nelle scienze che sembrano stabili e mature se ci pensate abbiamo descritto il fare scuola è più drammatico il cambiamento nella scuola di paradigma perché nella scuola sembra che l'insegnamento sia come metodologia stabile e maturo non è così ovvero è così ma non può più essere così quali sono le condizioni per cui realisticamente potrà cambiare il paradigma le condizioni sono quelle che sostanzialmente avete come Parlamento in gioco in questo momento e cioè siamo l'unico paese dei paesi sviluppati che non ha un percorso formativo per i docenti della scuola secondaria non l'abbiamo non c'è mai stato e fare docente chiede delle competenze che non sono le competenze solo disciplinari della disciplina della materia che si va a insegnare ma quindi chiede un'ulteriore molteplici serie di competenze che noi non insegniamo le insegniamo dalla primaria con scienza della formazione primaria non le insegniamo dalla secondaria questo è il dato su cui ci muoviamo abbiamo una rivoluzione epocale che c'è che chiede di cambiare la scienza normale dell'insegnamento ma non abbiamo il modo per cambiare il paradigma non tanto le competenze solo disciplinari come si può procedere? sicuramente facendo finalmente la scuola della formazione secondaria nella scuola della formazione secondaria si tratterà di introdurre competenze anche disciplinari dal punto di vista della competenza digitali necessarie per l'insegnamento per rovesciare il paradigma dell'insegnamento ovviamente questo chiede tempo che cosa possiamo fare nel frattempo? intanto fare quello perché chiede tempo ma come dire se non lo faremo e facciamo mai non ne cambieremo mai chiede occorre anche cambiare il setting io guardavo in questi giorni per un intervento che devo fare sul tempo pieno un libricino ingiallito del 1973 sono 50 anni dove fra il primo punto che si pone è pone la necessità come primo momento di una programmazione dell'edilizia scolastica nell'ambito del territorio come piano di sviluppo della comunità per una maggiore aderenza della scuola alla comunità territoriale sono cose che stiamo dicendoci adesso ma ero scritta 50 anni fa ma ho trovato questo probabilmente ero scritta anche prima il setting va cambiato il contesto territoriale va con cui si innesta la scuola va valorizzato noi parliamo di scuola aperta oltre che scuola all'aperto questo setting va cambiato perché si possono raccogliere patrimoni di competenze che altrimenti perdiamo ultima considerazione sempre sempre su questo tema delle competenze digitali ma è quello di informarvi come dire come facciamo adesso al di là della valorizzazione di capitale sociale si fa come si deve fare e cioè siccome non si tratta di insegnare la disciplina digitale quella andrà insegnata se faccio informatica se faccio alcuni alcuni corsi ma si tratta di imparare a utilizzare il digitale nell'insegnamento della propria disciplina l'unica maniera è la formazione dei docenti disciplinari all'utilizzo del digitale abbiamo esperienze validissime a livello nazionale nelle scuole del nostro paese di disciplinaristi economisti insegnanti di musica insegnanti di scuola dell'infanzia insegnanti di scuola belliera che a partire dalla propria disciplina nella come dire si sono inoltrate nell'acquisizione delle competenze digitali per curvare l'insegnamento della propria disciplina con l'insegnamento del digitale ultime domande si avvia le conclusioni dottor Versagli come misureremo queste competenze io credo che potremmo misurarle solo con la crescita degli apprendimenti che cosa sarà fatto con i PNRR la domanda che chiedevano l'europea su questo bisogna che la domanda venga posta all'unità di missione appositamente destinata a gestire le risorse di PNRR per il ministero dell'istituzione grazie dottoressa Iunti a lei una breve replica prego grazie mille allora cerco di essere veloce in realtà mi rifaccio ovviamente alle domande dell'onorevole Fusacchia in merito al discorso faceva riferimento ai pensionamenti ricollegandosi ovviamente a quello che avevo detto io e all'evento come tracciare la sperimentazione mi permette ovviamente di aggiungere qualcosa al capodipartimento il problema dell'appensionamento nasce al discorso della volontarietà quindi se si supera il discorso della sperimentazione lo so che continuo a parlare di sperimentazione come molti hanno evidenziato compreso l'onorevole Aprea ma in realtà appunto tornando al discorso che non c'è una strutturazione diciamo della metodologia didattica innovative in modo appunto costante e stabile all'interno delle istituzioni scolastiche ancora tutto quello che si fa rimane come sperimentazione e quindi tutto rimesso alla volontarietà e pertanto se va via il docente il concetto di pensione è collegato al discorso della volontarietà se in realtà si strutturano quindi anche attraverso la documentazione ma questo vuol dire condivisione vuol dire che anche all'interno della stessa istituzione scolastica il progetto non è rimesso a un solo docente ma c'è una condivisione magari tra gli insegnanti o attraverso una rete creando buone prassi la documentazione fa sì che anche se qualcuno va via eventualmente rimane traccia e si può in qualche modo strutturare quindi la buona prassi serve per dare avvio a una strutturazione però questo nasce anche dall'altro passaggio culturale cioè fare sperimentazione seria non vuol dire soltanto applicare qualcosa a scuola ma pensare in prospettiva e quindi cambiare se torniamo sempre al discorso di una modo di ragionare di fare e di fare scuola il discorso anche che è stato fatto della della disciplinarizzazione del digitale vi faccio anche alle parole del capodipartimento è un po' quel tornare al discorso della di continuare a pensare in modo anacronistico cioè il fatto che si disciplinarizzi tutto vuol dire quello che dicevo anche prima cioè si pensa che la sostituzione del libro con lo strumento informatico o digitale in realtà cambi la metodologia in realtà non è quello è proprio un approccio completamente diverso quindi in realtà io torno sul discorso che comunque probabilmente il vero cambiamento nasce nell'accompagnamento diciamo rispetto al corpo docente e a una formazione che indubbiamente non sia però anche quella va a resa innovativa secondo me anche la formazione con il personale docente sicuramente una formazione che sia stimolante che vede un coinvolgimento che abbia un valore ovviamente e non come di sotto si si prespetta attualmente i docenti non amano ovviamente un'imposizione della formazione lo dico in maniera onesta tanto si sa però fondamentalmente se si cambia approccio anche alla formazione la si rende stimolante coinvolgente sicuramente se si incide su quell'aspetto probabilmente troveremo una possibilità di cambiamento culturale all'interno della scuola l'altra cosa che volevo dire soltanto mi riferisco all'onorevole Melicchio quando parlava della Calabria ovviamente perché mi riferisco il mio territorio quando si dice di non trincerarsi dietro le difficoltà territoriali per non fare spero che si sia colto nelle mie parole ho detto so perfettamente bisogna spingere le scuole perché le scuole possono essere uno strumento di cambiamento per il territorio consapevole che non bisogna trincerarsi dietro le difficoltà però anche chiedo alle altre istituzioni ovviamente penso che anche gli altri soggetti istituzionali debbano consentire alla scuola di avere gli strumenti perché anche comunque senza di quelli al di là di tutto molto spesso la buona volontà delle scuole trova dei limiti comunque in delle difficoltà strutturali e in quello quindi ovviamente al di là della buona volontà cioè ci sono comunque delle difficoltà quindi consapevole che comunque non bisogna trincerarsi e questo è un problema nella Calabria che spesso ci giustifichiamo dietro delle difficoltà per non fare ma non è sicuramente quello le mie parole non devono essere lette in quel modo sono convinta che la scuola abbia il suo ruolo e possa fare comunque da volano per il cambiamento del territorio calabrese grazie 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 dottoressa do la parola al dottore Cerra anche a lui per una breve replica prego dottore Cerra grazie io cercherò di essere particolarmente breve perché molte delle tematiche sono state affrontate mi permetto di insomma richiamare brevemente quello che diceva il dottor Versari traendo spunto a quel libricino del 1973 insomma in questo paese di alcune cose insomma se ne parla da troppo tempo cioè secondo me almeno per l'esperienza non solo campana ma anche di altre regioni il problema delle strutture dell'edilizia scolastica è uno dei problemi forse principali per fare un esempio il l'intero comune di Napoli e parlo delle dieci municipalità non ha un solo ma parlo di un solo ambiente che è destinato in esclusiva alla mensa per il tempo pieno insomma quindi ci si arrangia scusatemi forse la parola poco poco elegante però io ribadisco che questo debba essere uno dei dei temi da affrontare noi qua abbiamo come dire un convidato di pietra che è costituito dal contributo dalla correlazione all'interazione con gli antirocali ma non ci torno un'altra cosa brevissima riprendendo sia quello che ha detto l'onorevole Fusacchia sia quello che ha detto l'onorevole Aprea quando parlava della scuola del futuro probabilmente uno degli aspetti che può favorire l'innovazione didattica e parlo in generale non solo dell'innovazione didattica in campo digitale è una riflessione più approfondita della questione della valutazione degli apprendimenti alle volte la nostra scuola insomma a mio parere non riflette abbastanza di quanto sia importante il processo valutativo che come dicono le indicazioni nazionali per il primo ciclo precede segue e accompagna il processo di insegnamento apprendimento a mio parere su questo aspetto dovremmo fare dei passi avanti e faccio l'esempio ritornando al digitale del registro elettronico e faccio a me stesso una domanda provocatoria il registro elettronico in questi anni ha aiutato la valutazione degli apprendimenti a mio parere poco perché insomma è il rischio di essere un po' impopolare insomma mi scuso che il capo dipartimento rischia di essere un po' impopolare perché quando poi si utilizza il registro elettronico solo come riproduzione e magari più rigida del registro cartaceo la cosa non va avanti quindi io credo che sulla formazione dei docenti ma sulle come dire sulle priorità del 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 sistema scuola una riflessione ancora più approfondita sulla valutazione degli apprendimenti debba essere fatta e faccio un esempio nel delega della centosette mentre per il primo ciclo di istruzione c'era una delega completa su valutazione esame di stato sul secondo ciclo di istruzione c'era solo la delega sugli esami di stato e questo praticamente ha naturalmente rallentato la riflessione l'approfondimento sulla valutazione degli apprendimenti e io credo che questo sia uno dei problemi o comunque uno delle risorse mettiamoli in termini di risorse opportunità che il sistema scuola tutto e non parlo solo della Campania della Calabria o delle regioni che magari sono più in ritardo può avere l'ultimissimo esempio quando è stato predisposto il decreto sessantuno sull'istruzione professionale è stata fatta una scommessa fra virgolette è quella di costruire i curricula e i piani di studi in termini di competenze di uscita che non sono correlate alle discipline direttamente ma sono le discipline che devono partire dalle competenze quindi sostanzialmente rovesciando una logica che è propria della scuola della nostra scuola tradizionale che poi sia un tentativo che sta riuscendo meno non saprei dirlo perché sono troppi pochi anni che il decreto sessantuno e il regolamento novantadue vengono applicati ma anche su questo credo che una riflessione il nostro sistema scuola lo possa e lo debba fare grazie grazie a tutti voi grazie siamo noi che ringraziamo voi grazie veramente per i vostri contributi e dichiaro conclusa l'audizione una buona serata grazie 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 presidente grazie